È stato in tilt diciamo martedì quando si è aperta la finestra. Le responsabilità ovviamente sono amministrative e tecniche, penso che è chiaro. Stiamo capendo ancora, stiamo cercando di capire cosa è successo, se è stato un sovraccaricamento del server o se ci sono state altre problematiche. Chiaramente risolveremo tutto prima l'apertura della terza finestra. Io ho fatto una nota al direttore generale dove appunto ho chiesto intanto di avere le spiegazioni su quanto è accaduto e soprattutto di mettere in campo tutti i provvedimenti per risolvere il problema. Anche perché al di là di tutto il piano giovani forse è una delle cose più importanti a cui stiamo assistendo, questo lo dico da giovane non da assessore, negli ultimi anni. e mandare tutto in fumo così per problemi tecnici, ecco mi sembra assolutamente indecoroso. Io ho detto che chiaramente non apriremo la terza finestra fino a quando non si risolveranno questi problemi perché non mi sembra corretto verso i giovani continuare anche a prendere in giro. Io sono del Partito Democratico e sfido chiunque a dire, diciamo che io addirittura sono in direzione regionale da anni a prescindere dall'essere assessore. Sono una dei primi, diciamo, di quella che ha creduto nel Partito Democratico, vengo dalla sinistra giovanile, dai giovani democratici, quindi di certo non... al di là ecco di quello che può essere la compagine del governo, diciamo, nessuno si può permettere di dire che né l'iscilabra né del Partito Democratico. Grazie.